Una vetta conquistata, una rimonta completata, ma prima di sedersi a tavola ci sono ancora 90 minuti da scrivere e da vivere. Il Natale, insomma, può aspettare ancora qualche giorno. Una buona serata da Cesena, Aroge il Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Cesena, Real Giulianova fa calare il sipario sul girone d'andata del Cavalluccio, schizzato improvvisamente al comando della classifica dopo la vittoria di domenica scorsa a Castelfidardo. Si comincia Tortori qui, cerca di sfondare, ma vedete c'è anche qua un po' di imprecisione, bravo però Noce ad anticipare Antonelli. Poi a cercare il cross, Fortunato! Fuori di qualche centimetro, si è divorato un gol incredibile. Jacopo Fortunato al 32, rivediamo perfetto cross di Noce, Fortunato da 4 metri la mette fuori, ma questo è un grave errore. Si prosegue il rimorchio di Fortunato dentro, Tortori, Tortori! Pallone fuori, incredibile! Chance colossale anche qui al 34esimo, come è uscito non lo sappiamo. Rivediamo Tortori a tu per tu con Mazzocchetti. Esterno della rete, ma un'altra incredibile palla-gol, Tortori. Cerca il cross, dentro l'area, colpo di testa Ricciardo! Tra i guanti di Mazzocchetti dilaga il Cesena, ma il gol non arriva. 36 sul cronometro, perfetta assistenza di Loris Tortori. Colpo di testa di Fortunato, che questa volta prende il tempo a De Fabrizis. Non angola, e allora è graziato il portiere del Real Giulianova, Mazzocchetti. Fischia l'arbitro, Alessandro, la calcia dentro. Noce di testa! Incredibile anche questa chance, tutto facile per Mazzocchetti, era liberissimo. Mario Noce, andiamo a rivedere, guardate un po'. Arcobaleno di Alessandro Noce è liberissimo, la colpisce forse di spalla addirittura. Ci sono ancora 10 secondi, brutto fallo, bruttissimo fallo di Torelli su Alessandro. Questo è da cartellino rosso, signori, arriva solo il giallo per Torelli. Pazzesco, pazzesco, andiamo a rivedere. Questo è rosso, rosso tutta la vita. Fischia l'arbitro, finisce il primo tempo con un clamoroso errore da parte del direttore di gara che è risparmiato del rosso, Torelli. Balducci è libero a destra, Torelli va a Torelli, carica a destra, deviazione, deviato! Di Paolo, poi Benassi, calcio d'angolo. Alessandro, dentro l'area, di testa Routiens! Subito Routiens! Vantaggio del Cesena, firmato Christian Routiens! Di testa, bravissimo il difensore centrale spagnolo, la sblocca lui! Grande angolo di Danilo Alessandro, il colpo di testa del debuttante, difensore centrale. Rivediamo, sontuoso colpo di testa di Routiens! Pallone nell'angolino, imprendibile per Mazzocchetti, 11 sul cronometro. Alessandro Tortori, lo scambio, Tortori, prova in sinistro! Mazzocchetti male, Routiens! Poi Mazzocchetti bene invece, benissimo! Addirittura un passo dalla doppietta il difensore centrale del Cesena. Guardate un po', gran botta, malissimo Mazzocchetti, poi parata sontuosa. Alessandro intanto, controlla bene il pallone dentro il campo, trova un varco per De Feudis. Al limite, De Feudis, il destro, Mazzocchetti male! Poi in due tempi riesce a far suo il pallone. Va Benassi con il destro! Gran volo, poi Ricciardo di testa! Guardate un po', sì praticamente un piattone, vedete Mazzocchetti poi vola, ma poteva davvero essere il raddoppio. Dal basso ancora più bello, guardate un po', la traiettoria, pazzesca davvero. Tonelli, pallone filtra, Biondini, Biondini, al limite Biondini! Mazzocchetti in campagna, il cross dentro l'area, Biondini di testa! Il biondo! Davide Biondini la chiude lui! Grande cross di campagna, torsione pazzesca di Davide Biondini che poi bacia quella che è la sua maglia preferita, la sua seconda pelle. Guardate qua, bellissima immagine, da sigla televisiva del girone d'andata. Uno, due, tre, gioco, partita incontro, Cesena due, Real Giulianova zero, Cesena campione d'inverno.